ciao amiche e amici dalla vostra gattaluna riprendono i famosissimi video in pigiama dice dov'è il pigiama eccolo qua sotto questa montagna di altri maglioncini questa è una sciarpetta di cotone cotone viscosa ecco qua il pigiamino se vi interessa andate da tezzeni se hanno dei pigiami che sono troppo carini di flanella in fantasia molto carine ci sono questi qui che con il cotone appunto flanella in cotone ci sono addirittura anche in pile un po pecorella se siete proprio super freddolosi o avete una casa senza il riscaldamento o andate in montagna o eccetera eccetera io la dritta ve l'ho data questi costano per meno di 30 euro pantaloni e la casacchina che si apre davanti col bottone con i bottoni bene 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 poi ci sono anche dei modelli invece tutti chiusi ma va bene detto ciò è sera infatti siamo in pigiamella e volevo iniziare questa nuova rubrica che è uno story time dove parleremo di come sono nate le mie passioni questa è la prima puntata se avete presente il mio la mia bio la cosiddetta bio che c'è su instagram ma c'è anche su youtube eccetera eccetera forse su quella su instagram dico questa cosa comunque non fa differenza le mie passioni sono fondamentalmente la lettura il cinema e il make up che poi lettura che vuol dire che scrittura cinema che vuol dire anche teatro make up che vuol dire anche skin care eccetera 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 però sapete che lo spazio in bio ha dei caratteri predeterminati quindi non si può scrivere un romanzo questo è evidente oggi prima puntata quindi come è nata la mia passione puntata numero uno lettura e scrittura allora io sono l'ultima di cinque figli i primi tre di una prima moglie di mio papà che poi rimase vedovo e sposò la mia mamma e arrivarono altri due figli un fratello ed io ultima arrivata quindi è andato a scuola prima di me a due anni giusti giusti più di me e quindi è andata a scuola come si faceva allora regolarmente a sei anni e io ne avevo quattro però quando lui dato che lui è sempre stato un dormiglione invece sono sempre stata una bambina che stava spesso sveglia non faceva il pisolino poi va bene mi addormentavo e non è che non ricordo che io mi svegliassi di notte però facevo impazzire mia madre sia per il mangiare perché secondo lei non volevo mangiare io dei ricordi un po diversi ma non è questo il problema non è questa la sede e sicuramente la facevo disperare per diverse cose mio fratello la faceva invece disperare per i compiti che non voleva mai fare la prendeva un po per i fondelli perché lei lo costringeva a farli e quasi tutti i pomeriggi si viveva questo battivecco tra lui e lei perché lei diceva lui faceva cadere la penna e per raccogliere la penna ci metteva mezz'ora e lei si incavolava tu non vuoi fare i compiti no no me li voglio fare insomma era un po una mezza tragedia per fortuna mio padre era al lavoro perché se avesse visto delle scene del genere succedeva l'ira di dio quindi però cosa succedeva che lui quindi andava a dormire molto presto alla sera io invece riuscivo a reggere anche nove nove mezza e lui invece probabilmente crollava le otto e mezza io cosa facevo me ne andavo quatta quatta tanto di solito condividevamo la stanza e gli rubavo la cartella mentre lui dormiva e curiosavo nella nella sua cartella mi procuravo non so neanche come dei fogli una matita una birra o chissà cosa mi procuravo e cominciavo a a copiare le parole copiare le lettere perché poi lui faceva gli elementari quindi sicuramente iniziavano dalle lettere adesso forse si usano dei sistemi diversi ho visto i nostri figli tutt'altra roba però si partiva dalle aste poi si facevano le lettere lo stampatello eccetera eccetera e quindi io gli rubavo la cartella approfittando del fatto che dormiva e mi mangiavo i suoi libri non tanto il cibo ma ero affamata di queste cose mi mangiavo le immagini rimanevo incantata di fronte al libro c'era il libro di lettura e il sussidiario libro di lettura conteneva racconti spesso edificanti o edulcorati eccetera brani di fiabe e il sussidiario invece dava una specie di infarinatura generale sempre in forma più o meno di racconto semplificato di storia o di geografia o l'amore tra i popoli eccetera eccetera et eccetera religione senz'altro e io divoravo le immagini e poi ascoltavo quando lui faceva i compiti con mia madre benché facesse un sacco di storie la penazia per i fondelli rideva come un matto più lei si arrabbiava e poi lui rideva però ascoltavo quando facevo faceva i compiti ascoltavo quando leggeva e mia madre si arrabbiava perché diceva che io stavo lì e non lo facevo studiare allora andavo magari un'altra stanza ma con l'orecchio tendevo l'orecchio per sentire e poi mi mettevo magari lì da sola con un foglio ripeto che non ricordo come io me li procurassi una biro quello che era un po prima fa ero un impiegato magari in casa c'era qualche taccuino block notes qualche penna e gli altri fratelli andavano a scuola e quindi chiedevo a mia madre le lettere le dicevo questo che cos'è e lei un po stupito un po così ma sottovalutando la cosa mi diceva è la m la e la e eccetera eccetera a un certo punto si accorse con suo enorme stupore che io leggevo leggevo e scrivevo però avendo imparato da autodidatta la mia scrittura era un disaster come mi fece poi notare una insegnante ma tanto tempo dopo eravamo già a milano perché le scuole le ho iniziate in quel di napoli diverse scuole in centro napoli perché i miei cambiavano casa per vari problemi e poi ci stabilimmo per un periodo abbastanza significativo a capodimonte che fu l'ultima casa napoletana per me per noi per tutta la famiglia e lì trovai io una maestra che mi accolse appunto ero facevo ancora la prima è diciamo il primo trimestre diciamo della prima elementare cambiamo almeno un paio di case e poi andai a capodimonte e era un quartiere bellissimo nuovo tutto nuovo la casa era nuova profumava di intonaco eccetera eccetera purtroppo non aveva il riscaldamento perché allora le case al sud non ce l'avevano c'era soltanto in un angolino in un'ansa del corridoio una stufa a legna ma gente fare un freddo d'inverno in questo paese do solo ma di che faceva freddo faceva freddo luccaria e scelte del song e 9 ricordate di filippo freddo for e fa freddo fa freddo quella roba la faceva un freddo terribile quando noi bambini andavamo nel letto che era gelato ci passavamo uno con l'altro la borsa dell'acqua calda che era una sola e battevamo i denti per il freddo l'unica era andare a letto presto su un letto cercavi di intiepidirlo in qualche modo se andava a letto super vestiti con calcettoni con i cappelli eccetera eccetera con tutto quello che si aveva e si dormiva così quindi l'ingresso vero e proprio nella scuola fu quando ero a capodimonte perché trovai questa maestra meravigliosa che si chiamava maria purtroppo è morta logicamente è stata la mia insegnante su quei 70 anni e quindi è morta tantissimi anni fa però col passare degli anni lei si informava sempre presso una mia zia che viveva sempre a capodimonte è sempre vissuto a capodimonte poi venuta qui con il porta una quella un'altra storia e mia zia gli diceva sì sì come no felice o classico lei è ma io lo sapevo che quella ragazza era sese e quindi faceva lodi spetticate poi quando mia zia le disse che mi ero laureata in lettere lei ancora più felice non fece a tempo credo a sapere della laurea in psicologia perché muri non era neanche tanto anziana però la maestra maria mi ha segnato positivamente perché ho imparato ad amare i libri ad amare l'imparare ecco l'imparare perché lei ci incantava con le sue lezioni e poi era una donna piena di gioia e di amore ci chiamava per nome proprio era veramente una seconda mamma come si diceva allora con un termine un po retorico e poi io vedevo che riuscivo riuscivo molto bene a scuola e questo mi piaceva mentre a casa non avevo tutte quelle soddisfazioni insomma tanti figli sempre burdelle gente che urlava non c'era mai tranquillità a casa mia infatti mia zia diceva io non so come fa sta vicerella a fare i compiti in mezzo a sto chiasso e tutti che urlavano eccetera e quindi ho imparato a leggere e scrivere da sola ma a modo mio quindi la scrittura era tutta libera libera io sul foglio vagavo volavano le lettere no mentre invece come mi spiegò la maestra a milano dove era tutt'altra persona era una donna anziana e severissima disse a mia madre sta bambina ma chi gli ha insegnato a scrivere è imparato da sola eccetera mia madre esagerando diceva che avevo due anni ne avevo quattro ma non importa e dice sì sì ma si vede perché scrive malissimo il contenuto è buono ma la scrittura se ne va per conto suo non sa stare sulla riga e robe del genere sto guadagnia puntina e e quindi fu una scuola severa quella della maestra milanese fui accolta malissimo erano gli anni in cui i meridionali hanno visti malissimo mi mise all'ultimo banco insieme ad una ragazza di cui ricordo ancora il nome ma non farò il suo nome che era grande povera stellina era una ragazza avrà avuto 14 anni ed era lì a fare ancora la terza elementare e mi hanno cacciato all'ultimo banco pensando vabbè ce n'è un'altra in realtà io e lì nacque proprio lo mio il mio desiderio di rivalsa di rivincita che ho sempre avuto anche nel lavoro eccetera all'ultimo banco a me non mi ci metteva nessuno ecco non è che io lo pensassi con tanta chiarezza o qualcuno me lo diceva però in realtà io mi muovevo e facevo le cose per conquistarmi sto cavolo di primo banco dove c'era perché io poi ero scura scurissima di capelli avevo questa massa di capelli sempre eternamente spettinati perché poi mia madre aveva iniziato a insegnare al mattino non c'era nessuno che mi pettinava qualche volta poverina mia sorella ma era una ragazzina anche lei quindi arrivavo sempre questi capelli lisci lisci ma messi fissati in qualche modo con una molletta sempre tutti spettinati arrivavano queste bambine della milano bene con queste belle trecce bionde con una pettinatura complicatissima al mattino le mamme gli facevano le trecce poi gliele avvoltolavano no come la principessa lei la ben quella lì di guerra stellari oppure si la principessa lei la luce la 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 quella la e oppure con una treccia che partiva da qui e veniva giù tutta bella pettinata con un fiocco impeccabile io c'avevo sempre sto fiocco storto il colletto che il col fiocco come finiva sempre dietro messa ma comunque lasciamo perdere parleremo di questo un'altra volta e sia del violino pulito è però stirato qualcosa sì più delle volte no e quindi la maestra mi aveva cacciato all'ultimo banco dandomi per persa e io invece dalla fine della ci vuole tempo e alla fine della quarta conquistai il primo banco anch'io ne avevo diritto e cioè ero bravina ero bravina all'inizio la maestra che si ero brava faceva finta di non accorgersi ma poi dovete arrendersi ero proprio bravina ero una bambina che falliva in tante cose no perché ero troppo sensibile avevo un sacco di paure nessuno mi ascoltava non avevo nessuno a cui confidare le mie paure i miei timori le mie cose ho avuto dei periodi anche di rifiuti già quando eravamo a capodimonte di rifiuto della scuola avevo paura ad andarci però insomma poi la cosa si risolse però periodicamente ritornava e mi ero appunto accorta è una cosa che poi mi è rimasta per tutta la vita che quando leggevo e scrivevo io stavo bene tuttora è così difficile che io vada a dormire senza leggere almeno qualche pagina perché un'attività che mi riconcilia col mondo ricordo un racconto sul libro di lettura di mio fratello ancora quando lui faceva l'elementare era un racconto che si intitolava me lo ricorderò per sempre la regina delle patate era un racconto diciamo stava lateralmente la pagina era occupata insomma dai vari contenuti ma il bordo conteneva magari brevi racconti disegnini eccetera io andavo a curiosare disegnini erano bellissimi e c'era questa patata con una corona in testa l'ho cercata questo questo racconto l'ho cercato tantissimo e cosa pagherei per riaverlo per riavere quel racconto riavere quelle immagini proprio l'altro giorno ho trovato non è quello però un racconto per bambini che si intitola la regina delle patate è un po lungo quindi non ve lo posso leggere però è bello anche quello è naturalmente molto più moderno ecco però è proprio una patata che ha una storia e quindi è così andò la storia quando ero a capodimonte avevo tante compagne di scuola il clima anche in classe era bellissimo mentre a milano devo dire era molto competitivo le altre ragazzine all'inizio mi emarginavano poi piano piano come si dice mi accolsero fui anche invitata a casa di una di queste qui la prima della classe bella bionda un po rotondetta ma veramente una bellissima bambina che era brava in tutto compresa ginnastica cantava benissimo scriveva benissimo tutto benissimo mentre a napoli il clima era molto molto più onestamente senza nulla a togliere alla scuola milanese che mi ha insegnato tanto poi ho fatto anche tutte le altre scuole qua però lì il clima era molto più gioioso perché la maestra era una donna allegra spumeggiante ci faceva ridere eccetera eccetera e avevo un'amica carissima che si chiamava emma mariconda me lo ricordo ancora che tra l'altro abitava in una casa in un condominio vicino al mio quindi al pomeriggio andavo a trovarla ma i miei genitori mia mamma soprattutto non era tanto contenta perché aveva paura mi doveva accompagnare mai più mi faceva andare da sola è insomma un po così però ci siamo frequentate tanto soprattutto gli ultimi tempi e purtroppo poi ci siamo dovute alla fine della insomma metà della terza elementare con dispiacere ci siamo dovuti lasciare chissà emma dove sei e che cosa fai magari sei già nonna io ti mando virtualmente un bacione e quindi erano delle case nuove con dei piccoli balconi e va come dicevo era un una casa senza riscaldamento io la ricordo però quella casa come una casa in cui sono stata felice era una casa tutto sommato luminosa avevo come vicina in un altro condominio sempre vicino avevo la mia carissima zia elena che quindi mi veniva a trovare tutti i giorni ci vedevamo mi riempiva di regali e mia mamma s'arrabbiava dicevo la vizzi sta bambina ma io così contenta che mi regalava le bambole nessuno mi regalava libri tranne che un mio cugino carissimo che poi si trasferì a milano anche lui siamo un po persi di vista un po più grande di me però era una bellissima persona una persona stupenda mi regalò un libro è un libro di fiabe che io ho amato letto e riletto finché si proprio si spaccò tutto per tutte le volte che lo leggevo me lo portai a milano e poi chissà in qualche altro trasloco mia madre buttava via tutto a 80 nostalgia per quella casa di capodimonte chissà adesso chi la abita e chi lo sa una cosa che io ricordo rispetto a leggere e scrivere che detestavo i quaderni che vendeva la vecchia cartoleria lì del quartiere perché erano quelli qualcuno tra voi magari non giovanissimo si ricorderà erano quaderni tutti immancabilmente con la copertina nera la carta era un pochino era molto liscia 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 ma un po giallina e avevano il bordo colorato di rosso io quei quaderni li odiavo non mi piacevano perché volevo la carta bella bianca le copertine colorate approfittai del fatto che la mia sorella che era comunque nove anni più di me quindi a quel punto io avevo 89 anni lei quindi era un adolescente quindi aveva il permesso poi comunque era molto ribelle se non aveva il permesso si obbliava e andava col pullman a milà a napoli con le sue amiche e mi procurò mi portò si ricordò quindi fu bravissima si ricordò del mio desiderio di avere un quaderno e andò in una cartoleria di napoli e mi comprò un quaderno bello bianco senza bordo rosso e con una copertina che riproduceva una città italiana davanti e dietro no se lo aprivi così se la foto era intera mamma mia quanto mi piaceva mi piacque quel quaderno lei temeva non mi piacesse perché la copertina le sembrava insomma non tanto da bambina c'era una foto di una città e mi fa ti piace dai su contetta pensavo non ti piaceva mi piaceva lo amavo lo adoravo quella bella carta bianca e ok e poi appunto bene invece nella scuola milanese l'ambiente era diverso molto più severo molto più formale c'erano più attività questo in dubbio c'era la ginnastica che a napoli non aveva mai fatto anche se la maestra aveva metodi molto moderni e poi scrivevamo con la biro mentre a milano la messa si scandalizzò si scrive col pennino e quindi io dovete abituare la mia mano ribelle con le lettere che svolazzavano qui e la scorrevano con la biro dovetti costringerlo sulla riga fare i chiaroscuri e tutte quelle robe lì la bambina bionda era bravissima vabbè e e poi c'erano le ore di musica che io temevo molto allora il maestro non ero uno che incuteva una certa soggezione sembrava giuseppe verdi aveva la cravatta fiocco insomma proprio era quasi ottocentesco nell'aspetto bei capelli bianchi eccetera ma la musica mi trasmetteva delle emozioni molto forti e quando qualche musica era commovente così capitava che piangevo e allora la maestra parlò con mia madre mia madre si preoccupò tantissimo allora temi dentro le mie emozioni feci finta di niente non piarsi più a e ok poi verso la quinta dovetti mettere gli occhiali però mia madre tragedia bambina con gli occhiali quindi sarà imbruttita era una bellissima bambina perché avevo questo contrasto tra la pelle rosa delle guanciotte belle rose gli occhi molto chiari e tanti capelli neri quindi era era che poi avevo sempre avuto le labbra molto un po scure ecco quindi colorate non so come dire mi ricordo che la maestra anche a napoli mi diceva ma paola che hai fatto e messo il rossetto no lei non ci credeva venne lì con un fazzoletto invece così e disse ah sì non ce l'hai il rossetto no non ce l'ho ma proprio le labbra così vabbè in questo momento non ho su niente vedete non sono proprio pallide pallide sono comunque rose vabbè comunque a parte ciò dovetti mettere gli occhiali la mia mamma per non mettermi degli occhiali brutti fece un sacrificio economico e mi comprò degli occhiali stupendi peccato averli buttati perché la montatura era spaziale autentici anni 60 era rossa e così già un po così con questa forma che poi come vedete non ho mai abbandonato tranne qualche episodio e poi nella mia vita i libri da quel primo libro di fiabe straconsumato si aggiunse zanna bianca che lei se non so quante volte e altri pochi libri ma con gli anni poi si aggiunsero tanti libri arrivarono con la scuola e poi extra scuola me li procuravo da sola poi dopo avevo mia mamma di strafforo mi dava sempre un po di soldini poi ho iniziato a andare alla lavorare piuttosto giovane e quindi i libri me li compravo per anni ho dovuto diminuire i libri da leggere per piacere perché c'erano i libri dell'università poi di psicologia poi il corso di formazione in psicoterapia quindi dovevo leggere tantissimi libri professionali di psicologia e quindi trascurava un po la lettura per piacere poi arrivarono i figli e lì non avevo tempo ma appena i figli diventarono un po più grandi diciamo la lettura che non avevo mai abbandonato rientrò a pieno titolo nella mia vita e non mi ha ancora abbandonato amiche amici spero di avervi fatto passare questa venticinquina di minuti in serenità suscitando magari qualche interesse e non mi resta che salutarvi ci vediamo la prossima al prossimo video vi ricordo sempre di fare ciò che vi fa stare bene vi saluto all'assistente e alla prossima un bacione